Buone notizie per la sanità abruzzese perché è notizia davvero di poche ore fa l'arrivo di nuovi fondi. Assessore Veri per quanto riguarda le liste d'attesa è così? Sì, abbiamo voluto portare in giunta questa delibera importante per l'abbattimento delle liste d'attesa. Mi ha visto in un lavoro proficuo in questi 60 giorni. Un grande risultato perché sappiamo quanta non omogenità c'è nella nostra regione per quanto riguarda il problema dell'essere in un elenco per poter usufruire di una prestazione sanitaria. Abbiamo riorganizzato sia da un punto di vista di procedure, di organizzazione, di prescrizione cliniche e soprattutto abbiamo investito anche dei fondi da parte della regione. Ci sono 2 milioni di euro. Ci sarà un'organizzazione che verrà fatta dalle aziende. Abbiamo dato i 60 giorni di tempo in modo che ognuno porterà avanti un programma ben preciso. Ci sono anche delle novità riguardo ai due livelli di CUP. C'è un CUP dove c'è la prima visita ma soprattutto poi un secondo CUP di secondo livello dove invece c'è una prenotazione di controllo. Ci saranno anche nuove assunzioni? Ma questo più che nuove assunzioni ci sarà un ampliamento dell'orario di apertura quindi su 6 giorni lavorativi. Quindi si darà possibilità di altri specialisti iscritti nell'elenco del SUMAI di poter prestare la propria opera, la propria professionalità. Nell'ambito del CUP ci sarà una riorganizzazione che vedrà qualche figura che avrà il compito di tutoraggio delle criticità.